Il primo ottobre nel mondo si celebra la giornata internazionale del caffè. La bevanda identitaria per gli italiani con l'espresso in tazza piccola trova cultori nei quattro angoli del pianeta e raggiunge valori record di consumo nel Benelux e oltreoceano, sia come bibita calda che fredda. Con brand global come Starbucks, che ha aperto in questi giorni a Verona il suo ventesimo store in Italia attraverso il gruppo per cassi. Verona è una delle tre città italiane, oltre a Milano e Roma, in cui Howard Schultz, fondatore e amministratore delegato ad Interim di Starbucks, ha conosciuto per la prima volta la cultura italiana del caffè nel 1983 e la sua intuizione di portare la tradizione delle caffetterie italiane negli Stati Uniti ha contribuito all'espansione mondiale del suo business nel caffè. In Italia ogni giorno si stima un consumo di 30 milioni di tazzine tra bar, ristoranti e locali pubblici. La filiera del caffè espresso vale circa 5 miliardi di euro con quasi 10.000 addetti. Nel settore operano oltre 800 torrefazioni con circa 7.000 addetti. Il 1 ottobre i consumatori potranno essere protagonisti della giornata attraverso iniziative volte a sostenere la nuova candidatura italiana a Patrimonio Universale Unesco.